Buongiorno a tutti, io sono Alberto Prandoni e sono il titolare della Buato d'Orgio Illeria di Via Nassa. Oggi vi presento le tre chicche più speciali per rinnovare la vostra promessa d'amore per San Valentino. Abbiamo pensato a una collezione speciale di cuori, di stelle e di lettere romantiche che vi permetteranno di stupire il vostro lui, la vostra lei e dirle ti amo in modo particolare. In questo caso vi facciamo vedere la nostra vetrina speciale di San Valentino dove troviamo tutta la romanticità dei nostri fiocchi della collezione di Biancaneve, dei nostri cuoricini in oro rosa e smalto e dei nostri anelli amore con il cuore su oro rosa o su oro bianco in paventi. Una collezione semplice ma curata in ogni dettaglio e che vi permetterà di fare un regalo speciale, unico, che una volta che verrà guardato e indossato vi permetterà di rinnovare la vostra promessa di amore e di gioire insieme di questa promessa. Naturalmente vi aspettiamo per scoprire tutta la collezione quindi venite a trovarci in Via Nassa 54, gli orari sono dalle 10 alle 18.30 da lunedì al sabato. Grazie mille e tantissimi auguri a tutti gli innamorati.